Bella a tutti Forniteers, benvenuti e bentrovati su LeonTube, eccoci in questo video per andare a vedere come fare l'incarico Distruggi oggetti Allora, si parla di oggetti, non dovrebbe conteggiare gli alberi perché eravamo qui a distese del duello a distruggere i nostri alberelli con l'auto ma non ce li contava mentre invece, stranamente, dobbiamo distruggere tutti gli oggetti ma anche le strutture quindi non ci rimane che giocare un po' di partite e andare a distruggere questi ci capitano vedete 55, 56, vediamo la struttura se ce la conta 57, perfetto, quindi dobbiamo un po' distruggere tutto quello che troviamo in giro per il gioco sarà un'operazione un pochino lunga però quando poi magari buttate giù, questo è lungo un piano di un edificio e vedrete che farete tanti punti perché tutti gli oggetti che sono sopra nonché le strutture vengono distrutte, qui comunque siamo già a 73 ora vediamo questo un po' grandino da distruggere vediamo un po' se ce la facciamo, siamo comunque già a 81 quindi dovremmo farcela quasi prima di far cadere il primo piano anche perché sì, lì c'è qualcosa di collegato ma ora facciamo facciamo una cosa questo per farlo un po' più veloce no c'è il soffitto, ok andiamo a distruggere il soffitto qua e non ce la facciamo ecco anche distruggendo ad esempio vedete un po' vi metto in questo modo qui vengono conteggiati più oggetti ora qui mi ha rotto il tetto sbagliato ok qui dovrebbe essere tutto sì c'è questo ancora che tiene collegato ok adesso vedete che crolla tutto e facciamo un sacco di punti in questo modo adesso era solo per farvi vedere poi basterà andare un po' a distruggere tutto quanto se trovate quindi una torre è più facile buttarla giù con 4-5 mura soltanto fate presto e niente ragazzi che dirvi questa è semplicissima ci salutiamo mi raccomando mettete un commento mettete un mi piace se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti mi raccomando restate sintonizzati su LeonTube ciao a tutti eccola qua abbiamo buttato tutta l'aria completata ora qui in questo caso questa non è cascata non succede niente ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti